Thronebreaker è l'ultimo prodotto targato CD Projekt Red. L'attesa intorno ai videogiochi della compagnia non dipende solo dall'immenso talento dello studio polacco, ma anche dalla filosofia vincente di rispetto per il consumatore, che gli ha consentito di conquistarsi un posto speciale nel cuore di milioni di giocatori. Per quanto ci riguarda lo consideriamo uno degli ultimi baluardi del videogioco d'autore, quello a cui noi vecchietti siamo stati abituati e che ormai sta purtroppo scomparendo. Finita la saga principale di The Witcher in molti hanno sofferto di astinenza da GDR occidentali di qualità. D'altro canto la stagnazione contenutistica di Gwent aveva lasciato scontenti partecipanti alla beta. Così CD Projekt Red ha ben pensato di sviluppare un'avventura single player per il suo gioco di carte. Sia chiaro, non un contenuto qualsiasi, ma una vera e propria espansione stand-alone da più di 30 ore che mescola card game e gioco di ruolo. Thronebreaker The Witcher Tales, questo il nome dell'espansione, e ci riporta nell'affascinante universo creato da Sapkowski. Stavolta non seguiamo Geralt, ma Mebe, la regina di Lyria e Rivia. La situazione nel nord suo malgrado non è delle migliori. La seconda invasione di Nilfgaard ha messo a ferro e fuoco i regni settentrionali, costringendo gli abitanti alla fuga. Gli altri regnanti, ovvero Foltest, Enselt e Demavend, sono alle strette. C'è chi ha dovuto addirittura piegarsi all'impero di Emir per evitare lo sterminio totale, considerata l'enorme superiorità numerica del nemico. Mebe e il suo esercito sono un caso a parte. Determinati a salvare le proprie città e scacciare l'invasore, partono in una spedizione apparentemente suicida con i pugni nelle mani. Se avete già letto i libri, avrete un quadro chiaro degli eventi narrati in Thronebreaker e gradirete la fedeltà al materiale cartaceo. Non si tratta di una trasposizione uno a uno, ma di un ampliamento, un approfondimento della storia di Mebe e del suo ruolo nella seconda guerra con Nilfgaard. In ogni caso, da lettori della serie di Sapkowski possiamo dirvi che l'esperimento è riuscito in pieno. Il motivo principale è la sceneggiatura eccellente. Sappiamo che, in termini di storytelling, CD Projekt Red ha ben pochi rivali sulla piazza. Le vette toccate con The Witcher 3 vengono raggiunte anche in Thronebreaker, che per quanto più sintetico e immediato nella sua struttura offre un comparto narrativo di grandissimo spessore. Nel cast troviamo sia personaggi canonici che non. Entrambe le tipologie sono caratterizzate alla perfezione e rese particolarmente empatiche grazie a dialoghi di qualità eccelsa. Niente a che vedere quindi con gli standard dei videogiochi occidentali degli ultimi anni, intrisi di femminismo e politicamente corretto fino alla nausea. Mebe, ad esempio, è una protagonista cazzuta, ma mai stereotipata per compiacere la Sarkisian di turno. Una donna forte, quindi, sì, ma lesbica, misantropa e finta progressista non c'è proprio motivo. E lo stesso principio vale per tutti gli altri personaggi. Mai ci siamo trovati di fronte a una riga di testo che celasse propaganda politica o ideologica, né abbiamo riscontrato forzature nella costruzione degli eventi. È semplicemente una storia ben scritta e godibilissima, ha il giusto grado di tensione e drammaticità, non disdegnando battute e momenti rilassanti dosati con intelligenza. Si soffre, si ride, ci si commuove e si rimane di sasso. Come da tradizione CD Projekt, all'altalena di emozioni non manca proprio nulla. Il tutto, tra l'altro, viene avvalorato da uno stile choose your own adventure degno di lode. Il peso delle decisioni in Thronebreaker si fa sentire di continuo. Un'azione in apparenza innocua come confiscare dei beni a un santuario può rivelarsi decisiva nei rapporti con qualcuno di particolarmente religioso, scoraggiandolo ad esempio dall'unirsi a noi. Perché infatti dovete sapere che nel corso della campagna avremo modo di acquisire compagni di battaglia e instaurarci, un rapporto. Starà a noi decidere come gestirlo in base alle necessità del momento. Ci è capitato ad esempio di perdere alleati per strada a causa di scelte che andavano contro la loro filosofia di vita o i loro interessi. In tal senso l'immersione ruolistica è assicurata e nonostante la presenza di svariate strade narrative dovute all'importanza delle scelte nel proseguo dell'avventura, l'intreccio non perde mai consistenza e credibilità. Detta in soldoni è un'esperienza da The Witcher 3 ma in miniatura. Questo perché in termini di gameplay e vastità del mondo di gioco Thronebreaker sceglie un approccio ridotto. Controlleremo Meve in prospettiva isometrica con il mouse muovendoci da un punto all'altro delle mappe che sono 5 in tutto e saranno disseminate di loot, missioni facenti parti della main quest e obiettivi secondari. Gran parte delle nostre azioni verrà ricompensata con soldi, legname e unità dell'esercito. Questi possono essere spesi nell'accampamento per ottenere dei bonus ed espandere le possibilità di deck building. Non dimentichiamo infatti che parliamo pur sempre di un gioco di carte basato nella fattispecie sulle meccaniche di Gwent. Dall'inizio dell'open beta a oggi molto è cambiato in Gwent, tuttavia i principi fondanti sono rimasti gli stessi. Si giocano una per turno, carte dalla potenza e dagli effetti variabili in una partita composta da 3 round. Per vincere bisogna sommare più punti dell'avversario nel tabellone di gioco portandosi a casa 2 round. Ovviamente la nostra è una spiegazione semplificata perché in game gli elementi da tenere in considerazione sono tantissimi. Tra effetti immediati, ritardati, automatici, necessità di pescare, scartare, attivare gli artefatti, di profondità il gameplay ne ha da vendere. Il tutorial in questo senso svolge un ottimo lavoro nel chiarire ogni aspetto delle dinamiche di gioco. Eppure, curiosamente, servirà più per il multiplayer di Gwent che per Tronbreaker. Qui le battaglie contro l'intelligenza artificiale hanno spesso regole esclusive di partita in partita e non richiedono una conoscenza pregressa del card game. Molto gradevole la presenza di puzzle in stile Yu-Gi-Oh! dove bisognerà vincere in un turno con le carte a disposizione. Alcuni di essi mimano addirittura altri giochi di carte tra cui Memory e Hearthstone, con effetti esilaranti. In generale ci si diverte, l'esperienza risulta stimolante e accessibile persino per i nuovi giocatori. Se vi approcciate per la prima volta a Gwent, Tronbreaker sarà per voi un perfetto trampolino di lancio verso il lato competitivo del multigiocatore. Per i veterani, invece, si tratterà di un ottimo cambio di passo dalla monotonia delle partite classificate. Ricordate solo di impostare la difficoltà massima perché, specie per chi milita sui server da almeno un anno, vincere con almeno 50 punti di scarto sarà una passeggiata. E questo è forse l'unico vero difetto dell'espansione, la bassa difficoltà per i pionieri di Gwent. Ci auguriamo quindi che CD Projekt Red aggiunga presto una modalità hardcore per soddisfare ogni palato. La accoglieremmo a braccia aperte. Veniamo ora al comparto tecnico. Allora, gli stili che coesistono sono due, un tantino dissonanti forse, ma allo stesso modo ricercati. Il primo è quello usato nelle sezioni GDR, quindi a spasso per le mappe e nei dialoghi. È un cel shading marcato molto fumettoso, abbastanza scenico e leggero in termini di risorse. Ha una bella palette cromatica, un discreto livello di dettaglio e si presta bene alla navigazione overworld isometrica. L'altro stile, il 3D, viene utilizzato in combattimento. Ne abbiamo apprezzato il tratto cupo e la ricchezza di dettaglio, che mette in risalto gli scenari realistici usati a moditavolo per le carte. Davvero carina l'idea di posizionare il modello del proprio leader a sinistra del campo di battaglia e di farlo interagire attivamente nelle schermaglie. Basterà cliccarci su per attivarne l'abilità speciale e osservarne le discrete animazioni condite dal doppiaggio, ancora una volta ottimo. Dulcis in fundo, la colonna sonora. I pezzi sono stati realizzati dagli stessi autori della soundtrack di The Witcher 3, con l'aggiunta di Peter Adam Cicc, o come cavolo si chiama. Che dire ragazzi, brividi. Ascoltate ad esempio Taming, Stray o Just Punishment e capirete. Siamo sui livelli di eccellenza a cui CD Projekt Red ci ha abituato in passato e per la cronaca anche Gwent contiene tracce a dir poco meravigliose. Per quanto ci riguarda, visto il prezzo ridicolo dell'intero pacchetto, ovvero 25€, vale la pena di acquistarlo anche solo per recuperare la soundtrack inclusa nella valanga di contenuti bonus. Thronebreaker è l'ennesima dimostrazione di talento e rispetto verso il consumatore da parte di CD Projekt Red. L'abbiamo chiamata espansione, ma in realtà è un gioco di ruolo da 40 e più ore venduto a un prezzo stracciato, appena il doppio di una microtransazione di Assassin's Creed Odyssey, e spazza via gran parte dei titoli usciti di recente per qualità e profondità dell'esperienza. Sia che siate fan di The Witcher o meno, è impossibile non consigliarvi nell'acquisto, fossero tutte così le espansioni. Ok ragazzi, per questo video è tutto. Vi invito a seguirci dai link qui sotto, in descrizione. Su Facebook pubblichiamo news e contenuti multimediali, su Instagram immagini divertenti, giochiamo regolarmente su Twitch e il link è sempre qui sotto. Si sclera e si parla di videogame. Iscrivetevi. Se intanto il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un like e a condividerlo. Se non vi è piaciuto lasciate un pollice in giù e fateci sapere cosa non vi ha convinto nei commenti. E alla prossima!